Sindaco, nelle ultime ore c'è stato un botta e risposta con l'ACA, lei si è fatto portavoce dei disagi dei cittadini, ma non sono mancate anche le parole grosse? Io non penso di aver detto parole grosse, io sintetizzo la mia posizione e il mio pensiero, fino alla settimana scorsa c'era un atteggiamento giustamente e istituzionalmente colloquiante e quindi di mediazione con la società dell'ACA per vedere di poter risolvere queste problematiche, almeno quelle più urgenti, quindi non dico quelle strutturali che tutti conosciamo dall'impoverimento delle sorgenti all'ammaloramento della rete idrica e quindi era giusto che io assumessi, come ho fatto, un atteggiamento, ripeto, dialogante. Poi c'è stata la riunione all'ACA dell'altro pomeriggio, alla presenza anche di altri sindaci dell'area metropolitana, io ero andato speranzoso che dall'ACA venissero delle proposte concrete e soprattutto rapidamente fattive, se non che ho ascoltato quello che già sapevo fondamentalmente. Sono uscito insoddisfatto ovviamente da quella riunione e mi sono fatto carico dei problemi dei miei concittadini richiedendo ad alta voce che non solo l'ACA ma anche l'ERSI e la regione quindi facciano il loro dovere per l'emergenza idrica che sicuramente non è iniziata ieri e quindi avrebbero avuto tutto il tempo di fare. L'ACA sostiene però che lei fa soprattutto campagna elettorale in questo modo? Allora innanzitutto la campagna elettorale è terminata da un anno, coloro che mi conoscono sanno che io non faccio campagna elettorale perché non ho casacche di partito, io faccio quello che è giusto per la mia città. sia ben chiaro questo e cerchino chiunque sia di non mistificare questa situazione a proprio vantaggio politico questa volta ma io faccio il primo cittadino di Chieti e sono il sindaco di tutti.